Grazie al dibattito sul recovery plan si sta tornando a parlare di asili nido e scuole dell'infanzia. Il tema sta coinvolgendo sia la politica, sia il mondo della scuola, sia le famiglie. Nelle intenzioni del governo c'è l'idea di utilizzare una quota significativa del Fondo Europeo per dare una risposta ai bisogni delle famiglie. Per la verità di asili nido si parla da anni. Di tanto in tanto c'è qualcuno che parla addirittura di asilo assicurato a tutti, anche se sarebbe più che sufficiente se si riuscisse almeno a raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea, che è quello di avere un posto per il 33% dei bambini. Mentre adesso si riesce a dare risposta soltanto a un bambino su quattro. Per di più va anche detto che attualmente l'offerta di asili nido è molto variegata a livello territoriale, tanto che ci sono aree, per esempio il Trentino Alto Adige, in cui si supera il tetto fissato dall'Europa e altre diverse regioni del sud dove non si arriva neppure al 10%. Le recenti linee pedagogiche per la fascia 06 però sottolineano un punto molto importante. Gli asili nido non sono solamente una risposta ad una esigenza di carattere sociale, ma rispondono anche ai bisogni di crescita e di sviluppo dei bambini. D'altronde, non da oggi, gli studiosi dei più diversi ambiti, psicologi, pedagogisti e persino linguisti, osservano che nei primi tre anni di vita si costruiscono le basi del linguaggio. A tre anni un bambino conosce e usa mediamente poco meno di un migliaio di parole e ne comprende anche molte di più. Questo ovviamente se vive in un ambiente familiare di livello medio. In caso contrario si ha un vero e proprio crollo, con conseguenze facilmente immaginabili sul suo futuro anche scolastico. Insomma, i primi tre anni di vita pongono le basi per tutto lo sviluppo futuro. Le difficoltà che il bambino incontra negli anni successivi e persino gli episodi di abbandono scolastico hanno radici lontane. D'altronde, uno dei decreti applicativi della legge sulla buona scuola che ha trovato meno opposizione e che anche i critici più accesi considerano con un certo favore, è proprio quello che istituisce il sistema educativo 0-6 anni, che fa riferimento alla fascia dei bambini interessati ai servizi dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Di recente anche la legge di bilancio si è occupata dei servizi per il segmento 0-6, incrementando ulteriormente le risorse destinate sia ai nidi sia alle scuole dell'infanzia, con un occhio di riguardo soprattutto alla realizzazione dei cosiddetti poli educativi che dovrebbero accogliere i bambini dei nidi e dell'infanzia in strutture ispirate ad un principio di continuità anche di tipo fisico. Questo perché è ormai assodato che il criterio della continuità educativa favorisce il corretto sviluppo del bambino. Le premesse e le buone intenzioni ci sono, se tutto andrà per il verso giusto è possibile che davvero si riesca ad incrementare i posti negli asili e a migliorare anche le strutture delle scuole dell'infanzia. Se si riuscirà a raggiungere questo obiettivo saremo più vicini agli stand europei ma soprattutto saremo in grado di offrire maggiori opportunità ai bambini e alle loro famiglie. È un tema importante, interessante, continueremo ad occuparcene, quindi seguiteci su questo canale ma anche sul portale www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.